In un momento come questo la domanda ricorrente che si fanno gli sportivi è cosa succederà ai campionati? Proviamo a vedere da vicino la situazione attuale, quali decisioni sono state prese e quali invece verranno prese a breve. In un mondo che, colpito anch'esso dall'emergenza sanitaria del coronavirus, sta cambiando i propri programmi giorno dopo giorno. Partiamo da quale potrebbe essere il futuro delle basket. Difficile pensare ad una ripresa della stagione per la Serie A. Diverse sono le soluzioni al vaglio, ma restano i dubbi se ripartire a porte chiuse, tornare a giocare da maggio con due mesi di fuoco o prendere ancora tempo e allungare fino a giugno. E con quali roster? Eh già, ad oggi già 49 stranieri hanno fatto le valigie e sono tornati a casa. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per avere delle risposte precise. Si va invece verso la chiusura anticipata per quanto riguarda il campionato di Serie B, che rischia di non riprendere più. Annullata la Coppa Italia, le società hanno fatto quadrato nei giorni scorsi e alla fine la maggioranza avrebbe manifestato pubblicamente la volontà di non tornare in campo. Palla che ora è passata al presidente della FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci. In Serie C di calcio ancora tutto in alto mare. Diversi scenari possibili. Il primo è quello di porte aperte, nel quale si prevede la conclusione della stagione in corso e la disputa dei play-off o play-out a porte aperte, appunto. Si potrebbe ipotizzare anche conclusione della stagione in corso, con partite invece a porte chiuse. La terza ipotesi, chiamata stop campionato, prevede il termine anticipato della stagione in corso e la ripresa delle partite a porte chiuse per i primi due mesi della prossima stagione. E come sappiamo anche la Lega Nazionale di Lettanti di Calcio ha sospeso tutte le attività fino al 3 aprile, ma sicuramente dovremo aspettarci novità e prolungamento dello stop, vista la situazione attuale ancora di grande difficoltà. Intanto sul piatto sono state messe alcune proposte a sostegno dell'attività dilettantistica. Si è fermato anche l'hockey, che avrebbe dovuto iniziare a marzo il girone di ritorno. Ad oggi sembra impossibile fare delle ipotesi, molto dipenderà dall'evolversi della situazione, ma nell'area si respira la volontà di non ripartire. Annullate anche tutte le gare di sci, dalle manifestazioni maggiori alle altre, fino all'evento del Pinocchio su gli sci, la manifestazione internazionale riservata ai giovani sciatori. Quest'anno alla Betone si sarebbe svolta la 38esima edizione. Lo stesso discorso vale per le gare di atletica, che ad oggi sono state sospese. Un pensiero va alla Pistoia a Betone, ultramaratona epodistica di 50 chilometri, sempre in programma per l'ultima domenica di giugno. Ancora non sappiamo se si svolgerà o meno, ma visto il grande impegno che richiede un evento del genere sicuramente quanto prima ne sapremo di più. Stop anche per il campionato di calcio a 5, anche in questo caso non sapremo se e quando riprenderà. Grazie. 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 Grazie.